Divertiti, mi spero, non vi sento, 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 facciamoci sentire sempre e comunque. Grazie di vero cuore a tutti quanti voi, grazie, grazie. Vi ringraziamo Salvo Vinci che ha permesso che questa serata avvenisse, quindi lo ringraziamo assolutamente Salvo Vinci. Vi ringrazio tutti quanti voi. Ringraziamo tutti, partecipanti, pubblico, l'orchestra, Salvo Vinci, Vanessa, Antonio Coppola, la regia, il service, coloro che ci stanno riprendendo, Kikko Kocci, io sottoscritto e vi dico sempre. Facciamo un applauso a Kikko Kocci, grazie, 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 grazie. Ma ricordate www.cantafessilangiro.com, Alba Parietti e Kikko Kocci, il tour dell'Italia, con il canto al giro dopo 30 anni di manifestazione, seguiteci dalle date siciliane. Grazie a tutti, Salvo Vinci, grazie, ciao, 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 ciao.